Signori, buongiorno. Festival di Sanremo, le d'accordo sulla vittoria? No. Secondo lei chi doveva vincere? Ultimo. Invece per quanto riguarda l'organizzazione del festival? Non mi è piaciuto, mi è stancato, troppo lungo, ho dormito molto. La prima volta che mi è piaciuto Sanremo, ti dico, la prima volta. Quindi è contenta della vittoria di Mahmood? Guarda, eccezionale, anche se l'altro ragazzo so che si è incavolato, perché era tra i preferiti. Quindi, guarda, veramente me lo sono gustato, mi è piaciuto tantissimo. È stato diretto bene, è stato presentato bene, bravi cantanti, ottima scelta. Non mi è piaciuto una cantante, ma ci può stare. A parte che a me quella cantante non mi è mai piaciuta, la Bertè, tanto per intenderci. È troppo estrusa, però ci può stare. Nel mucchio, una stranezza ci può stare. Sul festival di Sanremo siete d'accordo della vittoria di Mahmood? Io non l'ho seguita, non posso dire altro. Non l'ho sentita, l'ho solo sentita così in radio, però dai, normale, carina. C'era qualche artista di preferenza? Ce n'erano parecchie, dai, carine, più di qualcuna. Adesso una preferenza non ce l'ho, però dai, più di qualcuna ce n'era, carina. Buongiorno, sulla vittoria di Mahmood al festival di Sanremo, è lei d'accordo? No, assolutamente, Sanremo non mi è piaciuto, per niente, per niente. Secondo lei chi doveva vincere? Non lo so perché non l'ho guardato, ho guardato mezza, mezz'ora, basta, mi è bastato. Erano tutti giovani, quindi va bene così, va bene così, comunque sia. Quest'anno è stato veramente un bel festival come musica, molto radiofonica, che si ascoltava veramente bene anche non guardandolo. Per il resto va bene. Tra gli artisti c'era un suo preferito? Quelli storici, lo stesso Baglioni. Signora, ha visto il festival di Sanremo o le è piaciuta la vittoria di Mahmood? Sì, mi è piaciuta. Della Carmessi invece e all'organizzazione generale? Io generalmente non lo guardo perché non mi entusiasma, non mi è piaciuto neanche tantissimo, neanche quest'anno, però dai, il vincitore non mi dispiace. Io ascoltavo le canzoni alla radio il primo giorno, il martedì, e ho scelto questo ragazzo che si chiama Mahmood, però non sapevo né chi era, niente. Mi è piaciuta la canzone perché mi ricordava le canzoni degli anni 50, di quelle che si cantano, ballano, ricordano, eccetera. Grazie a tutti.